Allora, passa di qua adesso, dai. Allora, cambia tutto. Adesso senti questo, eh? Creare un'attività destinata ai bambini che consenta di rispettare le normative anticontagio e che rappresenta un momento di svago, di rilancio e felicità per i più piccoli, i quali da un momento all'altro hanno dovuto rinunciare al contatto con i compagni di scuola e di giochi a causa del lockdown. È nato con questa ambizione a Pescara il corso per piccoli DJ, uno dei primi nel suo genere in Italia, Visto il successo registrato durante l'estate, a settembre diventerà realtà la MLS Academy, Accademia Biancazzurra. Ad occuparsi della scuola è Marco Lasorda, conosciutissimo DJ, che ha fatto la storia delle discoteche abruzzesi. Il progetto è stato lanciato dall'Accademia Biancazzurra, associazione sportivo direttantistica. In sostanza nasce dall'idea dell'insegnante dell'Accademia Biancazzurra, Milena Pess, che in sostituzione di alcune attività sportive che si svolgevano all'interno del campus estivo, ha pensato di inserire un corso per disgiocchi in assoluta sicurezza e con le due distanze, dove i ragazzi possono imparare le tecniche di mixaggio vecchie e nuove tramite la mia esperienza, perché è un lavoro che svolgo da tantissimo tempo, da quando ero quasi bambino. Il corso per allievi dai 6 ai 14 anni consente ai più piccoli di vivere un momento di svago e grande divertimento e svolgere un'attività nuova e particolare, evitando il contatto fisico prolungato con gli altri. Attualmente i corsi si svolgono al Parco Villa dei Rizeis, mentre la MLS Academy da settembre avrà sede in un locale di Via Puccini. Allora, 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 allora.